La cabina è di prendere il posto che vi è stato assegnato Prima del decollo assicuratevi che la cintura sia allacciata Ehi lo, siamo a Bupè Voglio riprendere il nostro aereo gigante Chi ha detto l'attenzione di te? Non ha capito niente, perché poi ci sono dei cretini No, però Abbiamo fatto il video Il primo italiano, intelligente, chiamato Sono acquistato un quarto settimanale Navigò semente Non saluti neanche, non dici neanche buongiorno 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 Vediamo, mondo, com'è che sta a far scopare l'isci di sé? Vuoi dire il mio? Soddisfatto Con i pistanzi Quindi questa mattina dove andiamo? Buona All'Ur Andiamo a vedere l'uovo Molto buona però, devo dire Sì, sì Quella polacca con i pistanzi Cappuccino, davvero che lo sanno fare anche bene Anche qui in Francia E come direbbe Luca Stanley Cavolo Anzi, mandiamo un saluto a Luca Stanley Ciao Luca Stanley Ammazza Ammazza che piazza Siamo dentro la piramide di vetro Allora, per andare dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Ci vuole farvi dire che se usare una Nintendo 3DS Audio guida Quindi adesso dove ci porta questa audio guida? Dobbiamo andare in direzione Area Stanley Per vedere cosa? Abbiamo messo la Venere di Milo Oh, una donna nuda Direi che ha delle belle braccia Poi noi siamo meravigliati nel vedere queste cose E ci sono i sorveglianti che stanno a dormire Che se ne vanno al sonno Ah, poverini, guardali Stanno dormendo Una statua vivente Con il solo collo Con il solo collo Umano Il resto è in pietra Turi androcefali Alati Turi androcefali Cioè che sono turi con la testa da uomo Turi androcefali alati La Nick di Samo Traccia Sembra quasi Rose sul Titanic Manca Leonardo DiCaprio Lì abbiamo la Gioconda E c'è la resta delle persone Guarda, tutti a fare le foto Alla grande Gioconda La grandissima Gioconda Di fondo della Gioconda Nessuno sta guardando Un quadro gigantesco Le nozze di cana Guarda C'è Gesù Qua in tal centro Le nozze di cana Incredibile Qua nessuno sta guardando questo quadro Non c'è quasi nessuno Ecco il porcello di turno Ho detto Vai ti faccio una foto E sta in posa Guardatela Sì sì Resta in posa Dai Eccoci qua La Starbucks Caffè E lo zucchero Non lo so Com'è? Com'è? Potresti morire in diretta E' buono Beh il Louvre è Louvre Questo E arte moderna Saint Pompidou E qua in questo museo Non si può entrare con i zaini No Altrimenti ti puoi rubare L'arte moderna Te la rubi Shhh Ma si ruba l'arte moderna Vediamo A Louvre no A Louvre no Ecco i mappamondi Con i brufoli Ma Buh I piedi in faccia Guarda L'arte moderna Ma l'arte più bella è questa Che arte moderna E quest'altra Che è quella cosa Oddio Ma sei la cosa così No Che cavolo è? Che giocano Non lo so Indovina cosa ti tocco L'arte dei corpi Non lo so Grazie per la visione!